Buon viaggio, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, è chiuso per ripristino di un incidente in nodo di allacciamento tra la FIPILI e la 12 al chilometro 76 e 400 provenendo da Livorno. Prudenza in A1, rallentamenti tra Incisa-Reggello e Firenze-Sud in direzione Firenze, rallentamenti anche in direzione opposta, code a tratti tra Firenze in Pruneta e il Vivio A1 variante di Valico. Ricordo che in A1 per lavori di pavimentazione domani giovedì 31 agosto dalle 22 alle 6 sarà chiuso lo svincolo di Incisa-Reggello in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. È tutto, grazie a Regione Toscana, città metropolitana, comune di Firenze. Grazie a tutti.